si ma adesso devo andare al mare e io non devo neanche prendere il sole perché sono già bello abbronzato e il bagno non lo faccio perché l'acqua è fredda che ci vado a far male sai che faccio? vado al mare per far vedere i bozzi qui Showtime GP fam sono tornato con un nuovo tutorial ebbene sì oggi ho da proporvi un workout da fare prima di andare in spiaggia quindi facciamo un bel workout che ci farà asciugare tutti quanti ci farà diventare tutti shredded e poi belli belli ci andiamo nella spiaggia nella passerella a far vedere i bozzi perché io il sole non lo prendo e il bagno non lo faccio almeno faccio vedere i bozzi quindi senza altro indugio ne ho qui con questo tutorial only quality gang 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 let's go ok quindi ragazzi questo è un workout estremamente veloce ma estremamente intenso ragazzi sarà tutto molto velocizzato il lavoro di cardio è intenso quindi mi raccomando prendetevi un orologio si riuscirà a fare anche in 5 minuti ok perché sono 5 esercizi da fare in 40 secondi con 20 secondi di recupero partiamo subito con il nostro tutorial 3 2 1 let's go vai con mountain climbers ragazzi questo tutorial parlerò di meno perché come vi ho detto perché come vi ho detto è un tutorial molto intenso ok quindi è meglio che risparmi il fiato per portare a termine il tutorial per voi ok quindi 40 secondi di mountain climbers fatti adesso andremo a fare uno skip alto per altri 40 secondi 10 secondi e si parte 5 4 3 2 1 10 rega magari la prima settimana vi mettete come livello toccare le ginocchia non troppo alto e poi di volta in volta alzate le mani perché non si spessa ancora 10 secondi 5 4 3 2 1 via oh god damn ok già comincio a vedere qua l'addome che comincio a forse sentire quindi adesso per andare a recuperare un po' di fiato andiamo con i crunch per altri 40 secondi via oh questa volta però ci solleviamo del tutto fino a toccare con le mani i piedi questo workout è super top per bruciare e per attivare tutti i muscoli e andare in spiaggia tutti i pelli definiti recupero 20 secondi e poi vi toccano 40 secondi di parpies qua non si scherza rega god damn quindi siamo andati con mountain climbers poi ci siamo sparati skip alto crunches e adesso andiamo con i parpies let's go oh ah 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 Avete capito perchè sono solo 5 minuti di workout? Bene, 20 secondi di recupero perchè sennò svengo, dopodichè andiamo con l'ultimo esercizio di questo workout per killare definitivamente la parte alta, andiamo con dei push up esplosivi quindi intercambiando da quelli tagliamo un sac normale, tutti in un solo movimento 3, 2, 1, let's get Mamma mia, io direi che dopo questo workout vi faccio anche un bello shooting fotografico perchè sono super pumping 5 minuti intensissimi, guardate qua, non so se si vede, ma ho risvegliato addome, petto, la mia gambina risvegliata, bicipite, tricipite, bene un allenamento corto ma intenso come ho detto ragazzi se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale perchè continuo a pubblicare sempre nuovi video, adesso ho perfino un videocamera, ma è un super tosto che mi seguirà, quindi abbiamo intenzione di spaccare e di fare la qualità della qualità della qualità, qui su TimeGP condividete il video Only Quaite già sapete Scrap Eyyy Le Menge Te 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 Grazie.